Oggi andiamo a inaugurare i lavori di modernamento dell'impianto Palattone, che è il quale pulsante del canale Mignano-Romagnolo. Sono lavori assolutamente necessari per dare garanzia di fornitura, di distribuzione della risorsa idrica su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, in particola modo della Romagna, oggi più che mai in difficoltà in questi cambiamenti climatici che stanno portando a una siccità mai vista fino ad ora. Io credo che oggi in ottica, in prospettiva futura, dobbiamo ragionare sull'ampiamento anche della rete infrastrutturale sulle parti periferiche, ovviamente tenendo sempre ben presente che la nostra risorsa principale è il Po e quindi non dobbiamo assolutamente neanche qui pensare che sia una risorsa infinita. Il Cerco, la sua asta di 130 km, 135 km, anzi scusate, rappresenta secondo me uno strumento che potrebbe essere utilizzato per le energie rinnovabili, però ovviamente va avviato un discorso importante con le istituzioni soprattutto per cominciare questo tipo di percorso che deve portare a un risultato importante anche per la collettività. Noi siamo dentro non un cambiamento climatico ma uno stravolgimento climatico e basta vedere quello che sta accadendo in questi mesi, lunghissimi periodi di siccità, in Emilia-Romagna, in alcune zone, piove meno che in Israele e poi abbiamo delle giornate con una pioggia elevatissima, bombe d'acqua, lagamenti, per non parlare poi delle brinate, delle gelate e degli altri effetti dei cambiamenti climatici. Quindi noi dobbiamo da un lato mettere in campo politiche di medio e lungo periodo, quelle che abbiamo indicato nel patto per il lavoro e per il clima sottoscritto da tutte le associazioni imprenditoriali e che cerca di affrontare il grande tema della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. Ma dobbiamo fare anche interventi immediati, proprio per aiutare le imprese, in particolar modo le imprese agricole, ad avere l'approvisionamento idrico che è fondamentale per poter andare avanti. L'acqua non è l'oro blu, l'acqua è vita. Senza l'acqua non c'è nulla, non c'è presenza umana, non c'è presenza economica e non c'è agricoltura. Quindi io voglio ringraziare ancora una volta il sistema delle bonifiche, il CER, per questa dimostrazione di efficienza, con grande competenza, grande capacità progettuale e anche di utilizzo corretto delle risorse pubbliche. Parliamo di un investimento molto grande, molto importante, anche in termini economici, che consentirà un approvvigionamento idrico sicuro e certo a interi territori. Quindi davvero un'opera straordinaria. Grazie. 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 Grazie.